Attenzione! Questo programma contiene un linguaggio forte e riferimenti sessuali espliciti. Si prospetta una giornata molto difficile per Sasha, perché dopo Fanny è in arrivo un'altra brutta sorpresa. In villa, consapevoli dell'altra forma di gelosia di Sasha, quella per la sua toilette, stanno architettando un piano di abode. Come ne appicchiamo? Ah, portiamole su e appicchiamole dal water. Abbiamo avuto l'idea di prendere queste prugne, splaccicarle un po' e metterle nel gabinetto di Sasha. Guarda che impazzissima! Distruggiamogli la camera! Amo, corri! Quanto amore ci abbiamo messo a far di tutto, abbiamo proprio abusato del suo bagno. Bellissimo! Regà, a fare una... Questo è il patrimonio dell'Oresto! Sasha, ti roviniamo. Mette un po' di strada, mette un po' di strada. Sembra una c***a, ti giuro. La prugna tutta nera, sul corpo, faccio tipo striscia del c***o. È perfetta. Amore, se Alessi e Lucrezia consumano dentro al letto di Sasha, sarebbe proprio il top, la creme della crema. E secondo voi si sono lasciati sfuggire questa ghiotta opportunità? Buona sc***a, ragazzi. Aia! 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 Matteo è stato informato dello scherzo. Ora non resta che vedere come reagirà Sasha. Non ci siamo. Aia! 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 È di nuovo pronto per l'uso. Aia! 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 Aia!